Nel 2020 il prelievo si attesta a 9,2 miliardi di metri cubi di acqua per uso potabile. Stiamo parlando di volume alto, molto alto. L'Italia si conferma ormai da più di un ventennio al primo posto nei tre paesi dell'Unione Europea per la quantità in valore assoluto prelevata per uso potabile. E' seconda in termini pro capite soltanto preceduta dal calcio. L'Italia quindi ha ancora un prelievo molto ricco che proviene soprattutto da acque sotterranee che sono la risorsa idropotabile che è prevalente nel nostro territorio. Siamo all'85% del volume prelevato da posto da sorgente. Il distretto idrografico del fiume Po rappresenta il 30% del prelievo nazionale. L'analisi mensile dei dati che riusciamo a fare ormai da un paio di edizioni censuari è fondamentale ovviamente nell'analisi e nella valutazione della pressione sulla risorsa idrica. ci rileva che l'attività del prelievo è prevalente nel trimestre luglio-settembre, occasione in cui aumenta il prelievo da posti usati come riserve, ma anche il prelievo dalle acque marino salmastre, che in termini di volume è sicuramente residuale sul complessivo prelevato, ma è fondamentale per l'approvvigionamento delle isole minori e soprattutto della Sicilia e che rappresenta quindi una risorsa necessaria per l'approvvigionamento di quei territori. Per garantire una risorsa buona al consumatore, a garantirne la qualità fino al rubinetto, il 30% dell'acqua viene sottoposto a potabilizzazione e questo chiaramente dipende dal tipo anche di fonte utilizzata, le acque superficiali necessitano di un percorso di potabilizzazione più spinto rispetto a quelle delle acque sotterranee. È importante parlare anche di monitoraggio, la misurazione continua delle fonti di approvvigionamento, che sono, dobbiamo dire, ancora non ottimali, perché soltanto l'80% del volume prelevato viene misurato con i due strumenti di misurazione, il restante 20% è stimato. La misurazione è più bassa per le sorgenti, soprattutto se in alta quota, più bassa soprattutto nel caso di gestione in economia, dove quindi il gestore non ha attivato un monitoraggio continuo e costante della forza. Passando alla parte della distribuzione dell'acqua potabile agli utenti finali, sappiamo chiaramente che garantire a tutti l'approvvigionamento idrico a scopo idropotabile è un prerequisito fondamentale per una gestione efficace, efficiente e sostenibile della risorsa. Il servizio comunale di distribuzione dell'acqua potabile è attivo nella quasi totalità dei comuni italiani, soltanto 15 al 2020 non hanno un servizio pubblico di distribuzione dell'acqua potabile, stiamo parlando di circa 65 mila residenti con forme quindi di auto-approvisionamento, normalmente posti privati. Nei restanti comuni il servizio è a copertura completa o parziale del territorio. Non tutta l'acqua che è stata prelevata viene messa in rete, questo perché ci possono essere delle perdite in adduzione, ci sono delle perdite di processo durante il trattamento di potabilizzazione, ci possono essere degli usi non civili della risorsa che quindi poi viene deviata verso l'uso agricolo, l'uso industriale. 8 miliardi di metri cubi è il volume di acqua è messa in rete. A causa delle perdite idriche totali in distribuzione, quella che effettivamente arriva agli utenti finali è pari a 4,7 miliardi di metri cubi per tutti gli usi autorizzati sul territorio, quindi gli usi domestici, i servizi, le scuole, le fontane, usi che possono essere sia fatturati che non fatturati. Ogni giorno abbiamo a disposizione 215 litri per abitante con un volume pro capite che raggiunge dei livelli più alti al nord e nelle città più grandi, dove chiaramente ci possono essere degli usi extraresidenziali preponderanti rispetto ad altri comuni e quindi c'è un'attrazione nelle città più grandi e più turistiche che fa incrementare il volume pro capite erogato. In termini quantitativi la gestione risulta fortemente specializzata e 4 comuni su 5 e 8 italiani su 10 dispongono quindi di una forma gestionale specializzata. La differenza tra questi due volumi, tra il volume emesso e il volume erogato, determina quindi quelle che sono le perdite totali in distribuzione. Stiamo parlando di un volume molto grande, ancora purtroppo, 3,4 miliardi di metri cubi che sono persi in rete. Nelle perdite totali sono prevalentemente perdite di tipo fisico, ci può essere una piccola componente anche legata a perdite amministrative e quindi a errori di misura dei contatori o a consumi non autorizzati. In percentuale le perdite sono il 42,2% del volume emesso in rete. È un numero che negli anni, come vedete dalla slide, è sempre in crescendo. Il dato 2020 è sostanzialmente abbastanza vicino al 42% del 2018, quindi non c'è stata una variazione, un aumento significativo, ma una persistenza della condizione di disagio della nostra infrastruttura sicuramente questi dati lo evidenziano. Un comune su quattro ha perdite in rete superiore al 55%. Se analizziamo la serie storica in 14 regioni e province autonome su 21, in cinque distretti ideografici su sette, le perdite sono in aumento. Cosa succede sul territorio? Chiaramente c'è molta variabilità. L'analisi delle perdite in distribuzione a livello territoriale ci evidenzia una consolidata geografia di un gradiente nord-sud in cui le situazioni più critiche sono nelle regioni del centro e del mezzogiorno e nelle aree dei distretti ideografici della fascia peninica insulare. Si vede anche dalla mappa dove le zone più scure sono quelle in cui le perdite superano il 55% e sono sicuramente quelle in cui dovrebbero essere chiaramente incentivati gli investimenti sull'infrastruttura. Accanto alle perdite, un altro dato importante da tenere in considerazione è il dato che viene raccolto da dati ambientati nelle città e pubblicato annualmente sui comuni capoluogo di provincia e città metropolitana. I 15 comuni capoluogo nel 2021 hanno adottato misure di razionamento dell'acqua quindi attraverso un vero e proprio razionamento o addirittura anche una sospensione nell'erogazione dell'acqua nelle abitazioni. Questa è stata una prerogativa negli ultimi anni soltanto delle comuni del mezzogiorno ma questa nel 2021 segnaliamo che il razionamento è arrivato anche al nord e lo diciamo proprio perché è importante capire come in questo momento sul territorio tutto c'è una grande vulnerabilità legata al sistema idrico. Tre comuni capoluogo hanno avuto restrizioni estese a tutto il territorio comunale mentre i 12 solo per una parte del territorio. Situazioni più critiche si sono verificate a Chieti, Agrigento e Trapani in cui la sospensione o riduzione dell'acqua è avvenuta in quasi tutti i giorni dell'anno con turni diversi di erogazione estese a quasi tutti i residenti. L'analisi in serie storica di questi dati ci evidenzia come alcune di queste situazioni sono veramente strutturali e non legate necessariamente alle condizioni di severità idrica che stiamo vivendo negli ultimi tempi perché sono situazioni che ormai sono diventate quasi purtroppo normali. Tornando ai dati del censimento delle acque per uso civile quindi torniamo un attimo indietro nel 2020 anche in questo caso il censimento ci consente di fare una valutazione anche dei servizi pubblici di fognatura e depurazione messi a disposizione di noi italiani e i residenti e l'82%, quasi l'83% dei comuni italiani ha una copertura del servizio di fognatura superiore al 75% dei residenti. esistono 40 comuni in cui il servizio è completamente assente sono circa 386 mila residenti e poi ci sono casi intermedi in cui la copertura è parziale vediamo appunto che il 13-8% è una copertura compresa tra il 50 e il 75% è ancora un 3% circa inferiore tra il 25 e il 50% la gestione in economia è presente per un comune su quattro il servizio della fognatura rimane ancora quello in cui è maggiormente presente la gestione delle amministrazioni comunali la mappa sulla destra del slide fa vedere i comuni che sono privi dei servizi di fognatura ma anche quelli che sono privi del servizio di depurazione infatti ci sono 296 comuni in Italia circa 1.300.000 residenti in cui il servizio di depurazione delle acque reflui urbane quindi la fase successiva alla raccolta dei reflui in fognatura non è presente, completamente assente poi negli altri comuni il servizio chiaramente può essere presente anche diciamo in maniera parziale quindi abbiamo dei numeri importanti 7 milioni di residenti non sono allacciati alla rete fognaria pubblica e un milione e 3 di residenti vivono in comuni completamente privi del servizio di depurazione servizio di depurazione che viene garantito da un parco depuratori grande sono 18.042 gli impianti di depurazione delle acque reflui urbane in esercizio sul territorio al 2020 è il servizio pubblico in cui il numero dei gestori è più basso rispetto agli altri questo dipende proprio anche dal tipo di servizio è un servizio molto tecnico ovviamente quindi abbiamo il 96% dei comuni depurati in maniera completa o parziale 9 impianti su 10 sono gestiti i denti specializzati importante andare a vedere il carico inquinante che viene trattato da questi depuratori sono circa 67 milioni di abitanti equivalenti totali il 94% di questo volume è trattato in impianti di tipo almeno secondario quindi impianti di tipo secondario avvantato che sebbene nell'insieme del parco depuratori siano una quota soltanto del 43% trattando ovviamente essendo dei grandi impianti riescono a depurare molto questo è il quadro della depurazione che abbiamo dal censimento delle acque per uso civile concludo quindi con questa parte della depurazione la parte riferita al servizio idrico per uso civile il focus si arricchisce anche dei dati provenienti dalla rilevazione sulla pressione antropica e rischi naturali parliamo quindi di estrazioni di acque minerali naturali ai fini di produzione anno 2020 i prelievi di acque minerali naturali ai fini di produzione sono circa 20 milioni di metri cubi con un incremento del 3,6% rispetto al 19% le estrazioni vengono effettuate in 173 comuni che hanno almeno un'attività di prelievo di acque minerali è il nord in questo senso sicuramente l'area del territorio in cui si concentra oltre la metà del prelievo nazionale e questo viene a sua volta visto anche analizzando l'intensità di estrazione quindi metri cubi estratti per chilometro quadrato che raggiungono il valore massimo nel nord ovest con 125 metri cubi per chilometro quadrato concludo la mia presentazione dando un sintetico quadro della situazione meteoclimatica nelle grandi città ne approfitto per dire che poi ci sarà nelle prossime settimane un'iniziativa e un momento di rilascio dati totalmente dedicato agli aspetti meteoclimatici per la loro chiara importanza diamo alcuni dati per l'anno 2021 nei 24 comuni capoluogo di regione e città metropolitana la precipitazione totale annua è di 718 mm in calo di circa 75 mm rispetto al corrispondente valore medio del decennio 2006-2015 quindi una diminuzione che è stata letta a livello complessivo nei 24 comuni ma che tocca soprattutto 20 città in particolare Bologna, Trieste, Milano e Venezia che hanno avuto le riduzioni maggiori abbiamo anche diffuso su report alcuni indici di estremi climatici in media fra le 24 città osservate i giorni con pioggia registrano una flessione di 5 giorni rispetto al valore del decennio 2006-2015 e dall'altra parte i giorni senza pioggia aumentano di due unità 2021 nei comuni in esame rappresenta insieme al 2020 e al 2017 uno degli anni meno piovosi dell'ultimo decennio osservato concludo quindi la mia presentazione e lascio la parola alla collega Elisabetta del Bufalo grazie Simona un'altra parte determinante per la tematica acqua che ci tocca anch'essa quotidianamente da vicino è quella sulle opinioni e comportamenti delle famiglie sull'uso dell'acqua che ci esporrà la collega Elisabetta del Bufalo prego Elisabetta Salve, io dopo questi interessantissimi dati che ha presentato la collega riguardo proprio molteplici aspetti anche di tipo amministrativo che vengono rilevati in molti modi vi presenterò invece quello che è ciò che le famiglie percepiscono rispetto alla risorsa idrica in parte anche quali sono i loro comportamenti per capire quali sono gli effetti delle politiche messe in atto dalle istituzioni e gli effetti anche dei cambiamenti purtroppo climatici verso i quali stiamo andando incontro è molto interessante vedere come questi dati si riferiscono al 2022 nel 2022 le persone di più di 14 anni bene il 70% delle persone di più di 14 anni percepiscono i cambiamenti climatici intesi come i cambiamenti climatici conseguenze dell'effetto sera insomma tutti quegli aspetti che vediamo nel nostro vivere quotidiano come uno dei cinque problemi di tipo ambientale maggiormente percepiti durante gli anni pandemici questa percezione è andata un po' calando questa considerazione diciamo in maniera critica di questo problema probabilmente perché erano altri problemi di cui tutti noi ci stavamo in qualche modo preoccupando tuttavia nel 2022 risale immediatamente al periodo pre-pandemico quindi questo 70% 7 persone su 10 rispetto invece all'inquinamento delle acque vediamo che c'è uno zoccolo duro nel senso che nel 2022 abbiamo un 40% di persone che lo considerano un problema fortemente rilevante ma questo dato è un po' costante nel tempo già nel 2012 era quasi il 38% quindi sostanzialmente costante rispetto invece al distesso idrogeologico vediamo che solo un poco più di 2 persone su 10 se ne preoccupano nonostante anche gli eventi fortemente critici che ci sono avverati nell'ultimo periodo e c'è anche da dire che è un problema percepito in maniera calante in questo arco di tempo nonostante ripeto gli avvenimenti invece oggettivamente presenti di distesso idrogeologico c'è da dire però che gli italiani si dichiarano e credo che lo siano abbastanza virtuosi nel senso che 7 su 10 le dichiarano di fare attenzione a non sprecare le risorse idriche e devo dire che sono anche un comportamento in crescita rispetto al 2019 facendo anche seguito un po' ai dati che Simona la collega ha appena espresso vediamo che l'Italia l'80% delle persone di più di 11 anni dichiarano di aver consumato almeno mezzo litro di acqua minerale al giorno ed è un valore che è in crescita nel 2012 era del 77% circa quindi insomma ci posizioniamo credo al primo posto in Europa per consumo di acqua minerali il maggior consumo così come dai dati si vede la maggiore produzione e estrazione avviene nel nord ovest e nelle isole quello minore invece nel sud l'Umbria ha una caratteristica peculiare per cui è sempre in testa in termini di consumo di acqua minerale mentre invece le regioni della provincia autonoma di Trento è l'ultima diciamo area del nostro paese in termini di consumo di acqua minerale però ovviamente ci chiediamo il perché e infatti vediamo che c'è una quota consistente un 30% di famiglie che dichiara di non fidarsi di bere dell'acqua del rubinetto c'è da dire che questo dato oh ahimè è costante se vediamo la serie storica che qui non ho presentato ma insomma nel report in parte è accennato e poi ci sono le tavole è un dato stabile vuol dire che le azioni intraprese non diciamo non hanno migliorato la percezione delle persone in termini delle famiglie in termini di fiducia nel bere l'acqua del rubinetto il dato peggiora visibilmente sensibilmente c'è un fortissimo differenziale territoriale l'abbiamo visto su più aspetti lo rivediamo qui in Sicilia ben il 62% delle famiglie non si fida a bere l'acqua del rubinetto ovviamente questo è legato alle criticità proprio del sistema idrico nel suo complesso così come in Calabria e come in Sardegna per quanto riguarda le famiglie che dichiarano di subire un'irregolarità nel servizio di irrigazione dell'acqua si direbbe che un 10% ha un valore un po' basso insomma non particolarmente rilevante tuttavia abbiamo visto appunto che anche qui c'è un fortissimo differenziale territoriale per cui le regioni del sud soffrono tantissimo e Calabria e Sicilia al primo posto tra quelle che lamentano questa difficoltà questo disservizio direi nonostante tutto questo cioè nonostante tutti i dati che abbiamo detto prima nonostante queste difficoltà questa percezione di difficoltà nell'erogazione dell'acqua non fiducia nel bere l'acqua tuttavia le famiglie si dichiarano soddisfatte del servizio idrico abbiamo nel 92% l'86% delle famiglie che si ritengono molto abbastanza soddisfatte ovviamente anche qui rispecchia un po' quello che si dice rispetto agli altri indicatori per cui nel nord centro e sud diciamo c'è un andamento decrescente rispetto a questo livello di soddisfazione il minimo si raggiunge nelle isole con un 70% anche per i vari aspetti rispetto a diciamo legati al servizio idrico abbiamo una sostanziale soddisfazione sebbene la comprensibilità delle bollette sia l'aspetto diciamo ovviamente di tipo commerciale che meno le soddisfa grazie grazie alle presentazioni e le tematiche su cui riflettere sono molte se ci sono darei quindi spazio alle vostre domande e prima della domanda vi prego di presentarvi e di dirci la vostra testata di riferimento sia in presenza che online se c'è un ordine appunto per alzata di mano noi prenderemo le vostre domande sull'alzata di mano via Teams se avete bisogno e volete fare osservazioni c'è anche la chat abbiamo poi c'è un ordine in sala ci sono domande osservazioni ok allora se non ci sono domande io vi ringrazio e chiuderei qui la conferenza grazie vi ricordo che domani ci sarà un Twitter spesa alle 15.30 sempre dedicato all'acqua e andrà in diretta e quindi se siete interessati vi aspettiamo grazie a presto grazie a tutti